Scuola maestra di vita, non solo per il nozionismo ed esperienza umana, ma anche per modo di affrontare il mondo del lavoro, dell'università, per imparare fin da subito a trovare il giusto bilanciamento tra impegno e svago. Al Buonarroti di Trento arriva la settimana corta, 5 giorni dal lunedì al venerdì e non più 6, con le ore scolastiche spalmate tra mattine e pomeriggi. È la novità che entrerà in vigore dal prossimo anno. Un ripensare il proprio tempo scuola e tempo di impegni personali. I nostri ragazzi e ragazze giustamente svolgono tante altre attività e quindi la riorganizzazione del proprio impegno lavorativo e anche di svago, programmandosi poi come siamo soliti da fare da adulti e come richiede sia il mondo dell'università che il mondo del lavoro. La novità piace alle famiglie e ai ragazzi, ma anche ai docenti che così potranno avvicinarsi a una dimensione didattica sempre più europea e internazionale e mettere in atto una didattica ancora più relazionale e laboratoriale da sempre cuore del Buonarroti. Viene incontro a esigenze di famiglie, di studenti, ha però trovato sostegno anche da parte dei docenti perché per noi si tratta di far proprio a una visione di scuola nella quale crediamo molto che è una scuola che ci avvicina all'Europa. Il fatto di avere studenti, docenti per tempi più distesi nella giornata consentirà di ulteriormente portare avanti un approccio di tipo laboratoriale e progettuale che è il nostro elemento distintivo. La piccola rivoluzione è figlia di un lungo percorso di valutazione e dialogo iniziato ormai anni fa. Poi il Covid, l'obbligo di distanziamento, il divieto di stare troppo vicini o troppo a lungo insieme. Ora che l'emergenza è passata si può tornare a vivere e lavorare insieme. Un modo anche per affrontare la nuova emergenza. Scuole chiuse un giorno in più significa risparmio energetico, meno trasporti e più sostenibilità ambientale.